Benvenuti tutti alla ventitresima edizione del Festival Musicarte nel palco. La mia frase è il doppio, non tolta, perché c'è sempre un pubblico spesso che si ha rotazione, ci sono gli affezionati, meno affezionati, eccetera. Questo festival è nato da Pescara nel 1995, e forse è uno dei più vecchi che dura nel tempo, perché la mia perseveranza, aiutata dalla forza e dalla volontà di tanti giovani che suonano, abruzzesi, perché il comune denominatore di questo festival è la ricerca dei talenti abruzzesi che, come stasera, magari sono molto più conosciuti fuori che nella nostra regione. Allora, cosa dire questa sera? Io, come voi sapete, non mi preparo mai niente, ma vado sempre un po' a braccio. Io sono una pianista, ma presento sempre questi concerti, perché la musica parte della nostra vita intorno. Allora, i maestri che abbiamo qua questa sera sono, per chi non mi conosce, due grandi, ma proprio grandi con la G maiuscola. Posso dire, Renzo, che il re della musica è il pianoforte, è la regina e la cosa artica. No, va bene? Va benissimo. Ecco, anche per la questione di Pascondi, cioè il, la, quindi, la regina in assoluto, la misarmonica. Purtroppo, ma adesso non si dice più, purtroppo, la misarmonica, fino a qualche anno fa, forse noi non ne eravamo amati, tu sei più giovanile, sicuramente, non lo so. Non si dice. Non si dice. Una volta. La misarmonica era sempre associata alla musica folkloristica, alla musica di paese, alla musica popolare, alla musica delle feste di pianta, diciamo. In realtà, invece, la misarmonica, per fortuna, è grazie allo studio e anche a certi compositori, e così come certi interpreti, la misarmonica è diventata, o è diventato, è uno strumento per eccellenza, classico, e finalmente si studia anche nei conservatori di Stato, perché fin da qualche anno fa, vero maestro Alzzaro, non c'era. Prima, ai miei tempi, mi sono laureato nell'88, purtroppo, un po' di anni fa, non c'era. E purtroppo, chi doveva studiare la misarmonica, poteva andare solo a leggere private, no, ma invece adesso è uno strumento di tutti gli effetti. La misarmonica è nata con l'accordione, diciamo, questo nome è un po' francese, posso dirlo questa cosa, da italiana, che io amo l'Italia, ho scoperto che tre secoli fa, Leonardo da Ricci, aveva inventato un prototipo di questo cegiaccio italiano, oltre a essere un ingegnere, un disegnatore, un ricercatore, uno scienziato, era anche un inventore, quindi con tre mila cappoli, dei suoni, delle risposte in frequenza, delle ose sonore, e della fisica acustica, ha inventato una sorta di misarmonica, che poi, dopo tanti anni, per il riferimento del 2015, è stata realizzata da un italiano, a buono cuore, un buon cuore, se chiamiamo questo qua, e so che ce ne sono una decina di questi prototipi, in giro in qualche museo nel mondo, quindi l'Italia è... Sempre avanti. Diciamo che possiamo dire, possiamo avanzare, penso che l'Italia non ha inventato un strumento. Allora, prima di presentare gli artisti, io presento, conosco questo ragazzo, perché è sempre un ragazzo, Renzo Lugieri, chissà quante volte l'avete ascoltato, ma è brutto dire da spalla, lui spesso in tv, si è visto accompagnare Antonella Lugiero, una cantante, e tanti altri cantanti, in realtà è un solista mostruoso, cioè come suoni tu, e vedete una bravura incredibile, sia come esecutore, sia come compositore, io ricordo il tuo mazzer francese, che tuttora l'ha consumato questo cd, ma soprattutto, lasciatelo dire come maestro, perché i musicisti poi arrivano a un certo punto, anche nella vita, che quello che noi abbiamo dato, vogliamo anche trasmettere ai ragazzi, e spesso succede che quando un ragazzo ha una gratificazione, è come se fosse una nostra, è come un patto, una sorta di patto, quindi spesso la generatorietà, oppure la maternità, non figli nel senso fisici, ma la maternità si può anche dimostrare, amando i propri allievi, e partorendo loro dei grandi successi. Renzo Ruggeri, maestro, e Claudio Giardino, maestro. Buonasera, non voglio ascoltare la musica, quindi non sarò a lungo, lei è una miglia, quindi è chiaro che mi fa piacere, faccio pagare, dice cose bellissime su di me, però sono di me, non so, tutte le cose che ho detto. Va bene, scherzi a parte, io stasera, rispetto allo scorso anno, volevo portare questo maestro, Claudio Azzaro, che anche insieme a me, siamo parte dello stesso team, abbiamo preparato questi ragazzi che voi ascolteremo. Perché questa serata? Perché questo concerto? In realtà è nato casualmente, ma lo scorso anno fu totalmente un successo anche in pubblico, e anche i commenti arrivati successivamente sono stati talmente belli che abbiamo deciso di riproporlo. Tra l'altro ci ha anche portato fortuna. Quindi che cos'è questo concerto per le nostre scuole? come diceva la cara amica, noi siamo dei secondi genitori con questi ragazzi, ci preoccupiamo anche di quello che sarà il loro futuro, almeno per quel breve periodo che stanno con noi. Quindi cerchiamo a questi ragazzi di metterli alla prova, non soltanto insegnando le nozioni teoriche che non bastano. E quindi ci preoccupiamo di creare degli eventi. Tra questi eventi noi, fisarmonicisti, abbiamo a settembre degli appuntamenti molto fotografi. Sono degli appuntamenti internazionali, sono tre. Si chiamano la Coppa Mondiale, il Trofeo Mondiale e il Premio Internazionale di Castel Fidane. Sono tre concorsi incredibili dove arrivano fisarmonicisti da tutto il mondo. E quando un ragazzo prepara un concorso di questo tipo, inizia a studiare anni prima, ma poi nell'ultimo periodo, a partire da settembre nell'ultimo anno, si costruisce un programma che pian piano si mette a punto con tutta una strategia che magari voi non sapete, ma i ragazzi iniziano veramente, hanno delle scadenze di alto livello. Noi prepariamo i brani da settembre, a gennaio c'è la prima lettura, a febbraio-malzo ci sono le prime uscite, quindi le prime gare di avvicinamento. Poi giugno-luglio ci sono i seminari dove si fanno i brani per intero e cominciano a venire fuori tutti i problemi, tutti i problemi al sistema recetta. E poi, prima di settembre si cercano degli appuntamenti per suonare dal vivo il programma. E questo è praticamente l'ultimo appuntamento. Infatti, quello che voi ascolteremo stasera sono i programmi che questi ragazzi faranno fra un mese. tra l'altro voglio dire che uno dei ragazzi che lo scorso anno ha suonato, praticamente lo scorso anno ha vinto tutto, le ha vinte tutte e tre queste cose. e quindi, mi chiede veramente un applauso, si chiama Andrea di Giacomo che è quindi lui ha vinto portarlo con qualcuno. questo significa che inizia una carriera a livello internazionale quindi ha avuto la possibilità di girare. quest'anno una di queste gare non la faremo perché è molto distante in Canada ma ci regheremo il 24 di settembre con alcuni di loro non tutti perché alcuni stanno proprio all'inizio e andremo in Lituania a fare questo concorso internazionale importante invece tutti faremo la competizione di Castelfidardo che è il premio internazionale di Castelfidardo per chi non lo sa Castelfidardo della città delle Cisarmoni e tra l'altro una novità di Tunozani il premio internazionale di Castelfidardo quest'anno mi hanno detto di lettore artistico cioè capito? quindi è stata mi ha portato con tu un giorno io ti sento se mi passo più e mi faccio ascoltare con la musica ecco però voglio aggiungere anche un'altra piccola cosa che stasera ci hanno sottolineato che per me è molto bella perché io non pensavo allora a volte nella scuola capitano anche persone che fanno completamente tutto un altro lavoro quindi ebbè stasera c'è una ragazza che sono una fisarmonica peraltro per me la fisarmonica tu dicevi che è la regina ecco ma nelle braccia di una donna che mi sta una sensibilità particolare perché è proprio più delicata ebbè Ada che voi ascolterete potete vedere in realtà fa tutt'altro lavoro ed è solo un'appassionata ed è la prima vera voglia che suonerà davanti a un pubblico quindi non vorrei farla emozionare troppo però insomma come dire se gli altri sono tutti di muscolosi che corrono perché devono combattere fra un mese si ammazza e se lei è delicata delicata farà ascoltare la suo primo concetto quindi quindi buon ascolto e incoraggiamoli sono ragazzi giovanissimi e qualcuno di loro diventerà grande nel futuro io sono sicuro che diventeranno tutti grandissimi la sua falsa modestia no perché tu sei che non lo sapete il direttore artistico di Castelfidardo forse non Castelfidardo è la patria della fisarmonica io ogni tanto l'ho detto al maestro Azzarao sono stati in giuria dei vostri concorsi a volte via Zole ma è che l'avrei fatto fare a tutti i quadri abbiamo una grande personalità due grandi ragazzi allora Renzo Ruggieri Claudio Azzaro allora visto che ha portato fortuna poi non ci sa non c'è 2 3 no allora io dirò le piccole notiziole del curvico l'umbo di ogni musicista allora cominciamo con Gianmarco Alcini nato nel 2002 a Pescara intraprende lo studio dell'episarmonica con il maestro Claudio Azzaro all'età di 9 anni e frequenta corsi di per sciolzionamento con il maestro Renzo Ruggieri ha partecipato a numerosi concorsi tra cui l'accordo di Hart Festival ottenendo nella scorsa edizione il primo premio primo assoluto nella sua categoria allora Gianmarco suonerà Lisa di Marocco e tango italiano composto dal maestro Renzo Ruggieri ringrazio come sempre di dovere Giancarlo Ragnieri che riprenderà prego questi concerti appunto sul canale youtube che conosciamo tutti quanti quindi un lavoro di priorità del tuo e storico perché li renderai mortali prego Gianmarco Alcini applausi 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 Grazie. 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 Leonardo Rondolone. Il prossimo interprete. Nato nel 2002 a Teramo. Si avvicina all'Organetto. L'Organetto è tutta una scelta armonica piccola. Che poi... Insomma tutti qua tutto un pozzo. Alla fine il Bandoneon davvero maestro Zaron. Non è che sia così lontano. Era l'Organetto in Argentina. Era l'Organetto. Chiamato Bandoneon... Eh ma... Oggi. La Concertina si chiamava. Sì. Un po' come la PR. Allora... Si avvicina all'Organetto con il maestro... Eh... Renzo Luggeri. No Renato. Renato Luggeri. Chiedo scusa. Vince diversi premie internazionali. Come il premio nazionale Città di Teramo. All Music Festival Vittoria. E Accordio... Ax Festival di Roseto. A 15 anni vince lo studio della chiesa armonica. Con il maestro Renzo Luggeri. E subito si aggiudica il podio all'Italian Board di Roseto. Allora... Leonardo Mondolone. Suonerà... Di rispondi... Di rispondi... Di rispondi... Di rispondi... Di rispondi... Cervi Parker... Grande gipsista... Con l'arrangiamento di Renzo Luggeri. Poi... Una tempette... Di astie... Lisa... Del maestro marocco... Poi... Gli angeli... Di carrozza... Con l'arrangiamento di Renzo Luggeri. Leonardo Mondolone. Qui siashesandano... Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti.